Quando parliamo di digiuno stiamo parlando di uno strumento estremamente potente, ma questa potenza viene poco compresa in realtà perché? Perché non si capiscono le basi realmente su cui si fonda il funzionamento del nostro corpo quando non mangiamo. La prima cosa da sottolineare è che il nostro corpo si comporta in modo totalmente diverso se mangiamo o digiuniamo e qui diciamo che sono proprio due sport diametralmente opposti. Questo perché se noi andiamo a vedere tutti i metabolismo e tutti i cambiamenti metabolici cellulari che abbiamo visto nei precedenti video, quelli devono essere sostenuti a livello ormonale e metabolico dall'intero organismo e questa cosa chiaramente è difficile da comprendere ma soprattutto è difficile da assecondare perché perché noi tendiamo sempre a cercare di impedire che il nostro corpo subisca dei cambiamenti forti e repentini, cosa che in realtà sono all'interno del digiuno funzionali a un processo di autoguarigione.